Il fenomeno criminale nelle città campane. Vediamo cosa emerge dalla classifica stilata dal Sole 24 Ore sulla base dei dati che arrivano dal Ministero dell'Interno. Giovanni Messina. I dati elaborati e pubblicati dal Sole 24 Ore sono stati forniti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il periodo preso in esame è il 2017, anno in cui nel nostro paese sono stati denunciati 6.650 reati ogni giorno, circa 277 ogni ora. Il record è a Milano dove si sono registrati 27 reati all'ora e proprio nel capoluogo Lombardo, a Rimini e Bologna si concentra la maggiore densità di segnalazioni alle autorità. Nella classifica dei reati denunciati, Napoli è al ventiquattresimo posto con 130.765 reati, Salerno al 46esimo, Caserta al 50esimo, Avellino all'89esimo posto, Benevento al 101esimo. Il documento elenca nel dettaglio i dati relativi alle diverse fattispecie, omicidi, rapine, furti d'auto, usura, riciclaggio di denaro, estorsioni e truffe informatiche. 143 gli omicidi registrati a Napoli, ma il triste primato, in proporzione al numero degli abitanti, spetta a Vibo Valencia. E così, nella classifica degli omicidi, il capoluogo occupa il settimo posto. La maglia nera va invece a Napoli per i furti con strappo, se ne contano 2418, e per le rapine, con 5626 reati. Per quest'ultimo reato, Caserta si piazza al quarto posto con 961 rapine, Salerno al 35esimo con 391 reati, Benevento al 77esimo con 77 rapine, Avellino al 93esimo con 57 rapine.